La scienza fisica La scienza fisica sa molto bene che il movimento e il tempo del magnetismo e l'antimatero nel campo immaginario è opposto a quello dell'elettricità e della materia in cui opposte il campo della esistenza binaria che è chiamato reale e che è giudato per essere reale. Ora, dove sono considerati i due movimenti del corpo, dell'elettricità e del corpo, di questo matter, movimenti che percevamo dal nostro inizio fino al fine della nostra vita reale, possiamo essere assolutamente sicuri che, da che il magnetismo e l'antimatero sono l'azione dell'opposito reazione che percevano da noi, la parte di noi che, davvero in un'azione spirituale e subito, ha già surpassato il punto dell'apparente morte, praticamente già risurretto. Ma noi, percevendo l'azione, uguale e contrario, che percevano solo nel rivolto materiale e elettrico sui punti di una reale conversione della vita. Quindi, l'ansolto sistema, che si chiamato Dio, ha già convertito il nostro spirito. E possiamo essere assolutamente sicuri che la vita è eternale e infinita, nella crescita opposita, perché è mortale e definita in questo equale e contrario che è chiamato real, ma che è realmente false.